Sabato pomeriggio ci sarà anche uno spettacolo per bambini e per famiglie di e con Luisa Trompetto nel quale l'associazione Progetto Michela ha contribuito a realizzare le scenografie anche grazie al contributo di Danilo Saccottelli in questo spettacolo i bambini potranno veramente far parte integrante dello spettacolo quindi dovranno mettere i loro ingredienti e si intitola Wotsuppa un minestrone solidale vi aspettiamo al quinto mercato della terra della biodiversità San Giorgio l'11 e 12 di maggio indigena autoctoni in via di espansione